Ciao a tutti ragazzi, sono Pesco Oggi sono tornato con un nuovo video sul secondo gameplay di Rise Son of Rome Un gioco davvero spettacolare Ora vedremo insieme il secondo capitolo della storia Ok, ora questo è il video, diciamo, iniziale Tra il primo capitolo e il secondo capitolo Allora Vediamo un po' Oh, guardate lì, cioè, si vede il Colosseo Ok Io dovrei essere questo qui Che arrivo, tutto bello figo E questo chi è? Oh, è mio padre Vabbè, dai, saltiamolo, saltiamo il video Tanto non è che vi interessa molto Finalmente uccido qualcuno Dai, guai BAM 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 Diciamo che è morto, dai Gli abbiamo fatto male Andiamo, ah No Chi è qua per terra? Nooo, i miei familiari Ecco fatto Nooo, cioè, non ci posso crede Dai, dai Dai, su, su, li voglio vendicare No, cof Vai, mi padre è incazzato nero Eh, si vede Ehm, si vede Dai, elimine i nemici dal cortile di famiglia Stardi, mi avete ucciso mi madre e mi sorella Oggi morirai BAM BAM Tiè, brutto pelate Tutto bene? BAM BAM Venni che all'assassinio della tua famiglia Andiamo, andiamo, su Chi te uccide? Su, 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 su Dai, dai Te l'ho parata Vai, te l'ho parata pure questa Addio il braccio Addio la gola Addio il collo Vai, perfetto Sparata Addio il braccio Eee BAM Finiamolo Olè Colpo leggendario Padre Padre Che Che Oh, il Colosseo Sta andando a fuoco a Roma Ascolta Dai La devo difendere Devo difendere la mia patria Uè Chi è questo? Aaaaa Solo C'è qualche chilo di troppo Guarda Avanti Mario Accogli la mano Oh Come ti sei permesso? Non fai una brutta fine Ma Olè Falหน' Tan Me sento Mi sento Russell Crow A sto gioco Nel glad Tipo il gladiatore Mi sento Padre olé aia senza sette fanno una cosa del genere ok dai ne mancano pochi olé piglia sta mazza olé andiamo avanti punto di vista puoi uscire sempre in barbari riscio olé olé arrivo io bam no mi sono sbagliato riscio morto non ancora ancora io ok diamogli il colpo di grazia perfetto devo andare là sopra no ma rampia aspetta questo con scudo a una mano spada all'altra armatura strapesante si è rampicata per lui dai oh gli ha fatta scavalla come è atletico va si tutto bravo che violenza rompe la corda non dove andare mamma mia ho pure meglio da assassin creed sarà è nell'ambiteatro forza quando deve andare qua l per scattare cuori forest cuori cuori e no ma su che t'hanno fatto non t'hanno fatto niente il pilum questo c'ha una mira spettacolare oh ma quanti so che stai aspettando il pubblico si annoia no non l'ho piato modalità furia che cattiveria figata la modalità furia tutti a pizzo vai via questo vai via questo vai via questo e vai schiatta pure tu va te la paro te taglio un braccio bam vai via bam sportellata la schiena oleee oleee vai così manca solo il ciccione qua e pure questo oleee oh guardate che taglio eeeh che potenza so proprio un ti insegno come aprire le porte mi devi piaccare ci danno la caccia eeeh follemo siete sotto vai uccidi barbo premi una volta lt e rt per lanciare un pilum eeeh eeeh c'ha la mira il cavolo oh quello c'ha infilato un palo in fronte eeeh oh questo è una parata i pim oh ancora papà e dammi una mano mamma mia non fa niente non fa niente mi pare su papà ma basta la e guarda il muro mi spieghi che stai a fare io uccido tutti lui non fa niente poi si va a me andiamo andiamo chicco ma qua mi pare deve andare qua non si passa mario devi tornare indietro e abbassare il ponte libera una consentirà a leontius di proseguire abbassa il ponte mario fammi attraversare lo distrugge quella cosa a po' vai se vediamo all'altra parte spigni sto cosa raggiungi il foro oh che correte oh 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 che è successo oh non t'azzarda a uccide i cittadini di Roma bam 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 vai 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 mi vi massacra tutti quanti avete usato a uccidere i miei cittadini ahia Basta, attivo furia Furia A posto Ecco, questi mi fanno infuria e io ovviamente Massacro Per potenziare Vabbè, poi lo potenzio con calma Namathorum Aluforum Namathorum Oh, ecco mi padre Nooo Non mi dico che mi uccidono mi padre No, mu è morto Mi sa No, oh, sbrigate Sbrigate che sta a morire mi padre Nooo Infami E' peggio di quanto immaginassi No, mi dispiaglio papà Mi t'ho difeso Nooo Mi devo vendicare Per forza, mi devo vendicare, per forza Mi devo vendicare Infami Barbari assassini Farò ciò che chiede Chi è questo, questo scudo figo Tutto d'oro Salverò Bella zio Come butta? Tutto a posto Sono il comandante Viteni Ah, è quello con l'armatura figa Dai Sei il sangue che brami Ti prometto che Sì, io bramo il sangue Wow Sei con la seconda, vero? Sì, signore Sì, signore Yes Benvenuto nella quattordicesima Oh Me sa che è finito il capitolo Va bene ragazzi Credo sia finito il secondo capitolo Allora Questo è il secondo gameplay Della storia di Rise Son of Rome Spero vi sia piaciuto il video Mi raccomando Iscrivetevi Commentatemi Mettete un bel mi piace Ma soprattutto iscrivetevi E ragazzi Ci vediamo con il prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti